Quarti finale del mondiale, Olanda contro l'Argentina, 1-0 dell'Argentina, derby dei Blue Island, tanti componenti dei Blue Island, calcio di punizione, Siga sulle valla. Che fenomeno. Oh ma come si zooma qua? Con questo. Con questo? No, blitz. Come si zooma? Non zooma. Va bene, non fa niente. Mi avvicino, camminiamo. Calcio di punizione dell'Argentina, Siga davanti alla palla. Ma come si è coccinato il zoom? Boh. Il zoom è in letto e fotocamera, senza da qui. Eh eh? Oh ma come si è.. Grazie.